Italia 1 La Terra è ancora in pericolo Goku, Vegeta e tutti gli altri stanno tornando Osa, per quale motivo ti stai allenando? Per affrontare nuovi nemici Crede non avesse detto che era buono A 30 anni dalla nascita della saga In prima visione assoluta Italia 1 Ma io cosa fai faccio con quei soldi qua? Dragon Ball Super Dal 23 dicembre alle 13.45 Torno presto! Torno presto!